Dopo il derby vinto la scorsa settimana, l'Aquila Rugby Club torna nuovamente al fattore, questa volta nella consuete veste di padrona di casa. Domenica 18 dicembre andrà infatti in scena il penultimo turno della fase territoriale di Serie A con i nero-verdi matematicamente promossi alla pool promozione. L'avversario sarà il Primavera, che darà il massimo per continuare a lottare per un posto nei primi tre del Girone 4. I Romani sono attualmente quarti in graduatoria a quota 20 punti, ma a solo tre lunghezze dal secondo posto. Il fischio d'inizio del signor Schipani di Benevento sarà posticipato alle ore 16.30 perché prima si svolgerà il primo torneo Natale di Rugby all'Aquila, che dalle ore 10 animerà il rettangolo di gioco del fattori. Il torneo, che vedrà la partecipazione di sette club delle categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12, è organizzato dalla Rugby Experience in collaborazione con l'Aquila Rugby Club. Nel pomeriggio invece spazio alla Serie A per l'incontro che si preannuncia non facile per i ragazzi di Vincenzo Troiani e Pierpaolo Rotilio. La primavera è infatti una squadra alla portata dell'Aquila, ma è migliorata molto rispetto all'inizio della stagione, ha sottolineato Rotilio. Per questo dovremo essere attenti a imporre il nostro gioco. Vogliamo continuare a onorare il Girone e vogliamo continuare a battere tutte le squadre. Per questo la formazione, eccetto che per qualche cambio, sarà sulla falsariga di quelle precedenti. Il risultato è venuto perché loro sono riusciti a...